Si aspettava qualcosa di più dal PD, dalle opposizioni, qualche risposta un po' più dura anche oggi? No, ma non voglio dire, se vogliamo costruire un'alternativa la dobbiamo trovare in questo momento fuori dal Parlamento, devo essere sincero, questo Parlamento non ha al suo interno forse in grado di suscitare un'affascinazione politica per un'alternativa al governo Salvini, Di Maio, quello che è, insomma Salvini ha un consenso in questo momento importante nel Paese, 5 Stelle lo stanno perdendo ma comunque sono una forza importante, se si vuole costruire un'alternativa bisogna costruirla in un altro modo e vi assicuro che io ci lavorerò perché è un obiettivo molto molto importante, interessante, affascinante e ne avverto tutta la responsabilità da sindaco e da cittadino di questo Paese, cioè vederci volare l'Italia nel baratro io non ci sto, quindi credo che dobbiamo tutti quanti lavorare ma non per produrre modelli che hanno portato al salvinismo, cioè il Partito Democratico ha portato a questo, quindi non possiamo affidare la realizzazione della medicina e dell'antidoto a chi è stato l'autore di questa forma di patologia politica, quindi che dice all'interno sicuramente degli elementi con cui si può ragionare, ma non è un partito in questo momento che può rappresentare l'alternativa o quella forza come diceva lei in grado come dire di contrastare efficacemente perché è un problema di credibilità, è un problema di coerenza e qua la credibilità e la coerenza non si comprano al mercato e soprattutto la gente poi per quanto c'è memoria corta politica nel nostro Paese se le ricorda le cose e quindi ecco bisogna fare un lavoro molto più complesso, molto più dinamico, molto più movimentista, molto più dal basso, bisogna costruire, costruire parlando poco e lavorando molto e soprattutto non annunciando le cose che si stanno facendo prima che si realizzi.